Viaggiavano in A1 a bordo di un'utilitaria con un chilo di cocaina nascosta tra i bagagli, ma sono stati scoperti ed arrestati. Ancora dunque un sequestro di droga da parte della Polstrada di Battifolle, dopo quello da oltre 21 chili di alcuni giorni fa. È successo la scorsa domenica attorno alle 13, quando una pattuglia della polizia, nel corso dei consueti controlli in autostrada, ha fermato una FIA 700 con a bordo tre persone. Da un primo controllo sui documenti è emerso che tre cittadini peruviani con precedenti dispaccio non erano in regola con le norme sul soggiorno in Italia, ma c'era anche qualcos'altro, tanto che i poliziotti hanno effettuato una perquisizione sulla vecchia utilitaria, con il risultato che, occultato tra i bagagli, hanno trovato un panetto di cellofan contenente oltre un chilo di cocaina assieme a tutto il necessario per il confezionamento delle singole dosi. Singolare è anche il packaging del panetto di cocaina. Forse per sviare i singoli controlli visivi, la droga riportava il logo Ferrari, quasi da farla sembrare un gadget della famosa casa automobilistica. I tre arrestati sono stati portati nel carcere di Sollicciano, mentre auto e droga sequestrate. Grazie.